Mogos inizia questa stagione con la maglia del Teramo, prospettiva appunto di un campionato di Serie B dal punto di vista insomma della tua carriera, quanto è importante questa annata? Diciamo che speriamo che sia il mio trampolino di lancio perché penso per tanti ragazzi siamo carichi, pensiamo a fare bene, che è quello che vuole la società quindi questo è il nostro primo obiettivo. Senti, quali sono le tue caratteristiche? Sappiamo che sei un giocatore, un esterno? Un esterno, un tornante, faccio avanti e indietro con la fascia mi piace molto offendere però non mi dispiace neanche difendere sono ragazzo, sono un giocatore esplosivo, bravo nel gioco aereo e poi sinceramente aspetto che me lo diciate voi come sono. Senti, le tue precedenti esperienze quali sono state? L'anno scorso ero a Lumezzane, ci siamo salvati i play-out abbiamo fatto, è stato un campionato difficile però alla fine dei conti ci siamo salvati, quello che conta poi due anni fa ero a Portotolle, un'esperienza un po' negativa dal punto di vista come giocatore perché alla fine si è retrocessi, non è mai bello poi ho fatto gli anni prima ancora, scusate, a realicenza ad Asti e adesso eccomi qua, quello che conta adesso è essere qua. Le tue origini? Sono rumeno, ormai adesso metà agosto faccio 17 anni che sono qui ho appena preso la cittadinanza, sono contento perché è finalmente arrivata e sono a disposizione di tutto, di tutto. Hai visto le immagini della promozione? Sì, ho visto tutto perché conosco la Padula personalmente quindi lo seguivo tanto, vedevo la curva, infatti penso che sia l'uomo in più in campo.